Una nuova piazza a mercato che serva alla città non una mezza giornata a settimana ma che sia fruibile ai magentini anche negli altri giorni. Un nuovo bando per la gestione del bar e una sistemazione dei parcheggi per consentire alle famiglie di avere una nuova piazza e sviluppare la parte sud della città. Questo il senso dell'intervento da circa 300 mila euro per la gran parte finanziato da Regione Lombardia che è pronto a partire nei prossimi mesi a Magenta. Inizieranno dopo la fine della scuola e finiranno entro l'inizio della scuola. Verrà fatto contestualmente durante questa estate un bando per l'assegnazione degli spazi dove prima c'era il bar per le associazioni perché creando un nuovo spazio aggregativo all'interno della piazza che dal mercato viene usata per mezza giornata alla settimana noi vogliamo che quella piazza sia fruibile quindi un nuovo spazio per nuove iniziative che l'amministrazione vorrà fare per nuove iniziative che il privato vorrà richiederci di fare ma soprattutto per farlo fruire alle famiglie. Quindi verrà fatto i parcheggi alla fine saranno tutti collocati con lo stesso numero di posti verso via Matteotti sarà lasciato libero lo spazio di cuscinetto tra la scuola e la nuova piazza che di fatto andremo a formare di ritrovo all'interno di piazza mercato e questo proprio per insieme all'associazione che vincerà il bando per poter fare un punto d'incontro tra piazza mercato e centro della città. L'assessore ai lavori pubblici Enzo Tenti ritiene anche che la nuova piazza mercato con relativi interventi andrà anche ad aumentare la percezione di sicurezza dei magentini. Piazza mercato verrà fatto anche considerando questo, cioè se io recupero un'aria o meglio la sviluppo, gli cambio e la rendo più bella e fruibile anche da parte del cittadino normale, aumento il principio di sicurezza perché la vivibilità di un posto e la bellezza di un posto aumenta la percezione di sicurezza che ha il cittadino.